Lavora per trovare una soluzione sulla continuità territoriale e la SOACO per assicurare i voli di collegamento dall'aeroporto di Comiso a Roma e Milano. Perché fino al 15 ottobre l'Italia assicurerà il collegamento del Piola Torre alle città di Roma e Milano, secondo quanto previsto dal bando che la società sia giudicata. Ma la compagnia chiude i battenti e dopo il 15 ottobre non vende più biglietti. Ma dalla SOACO arrivano però forti rassicurazioni per i passeggeri, dato che si tratta di una situazione già nota. Non vi saranno dunque disagi e fanno sapere che tramite i contatti con la ENAC si lavorerà per mettere in campo tutto ciò che è possibile per assicurare la continuità territoriale. Forse si farà infatti affidamento ad un vettore per gestire la situazione in emergenza nei sette mesi successivi al ritiro di Alitalia per poi seguire l'iter previsto. A scegliere il vettore che coprirà la mancanza della precedente compagnia sarà l'ENAC con MIT regione siciliana. La soluzione migliore sembra dunque essere l'affidamento diretto ad una compagnia per un massimo di sette mesi durante i quali nel frattempo si lavora per redigere un nuovo bando. Ad Alitalia succede ITA, una nuova compagnia, ma chiaramente la società dovrà prima giudicarsi il bando secondo le normative per prendere il posto di Alitalia. Nei prossimi giorni si saprà comunque con certezza, fanno sapere dalla SOACO, cosa i vertici ENAC sceglieranno di fare. Grazie a tutti.